Il romanzo Alibi con la prefazione di Fiammetta Borsellino, autore Fabio Giallombardo, disponibile già sul nostro sito www.darioflaccovio.it e in tutte le librerie dal 4 giugno. Una normale storia borghese, quella dei quattro protagonisti e delle quattro vocine arranti e poi dopo però all'interno di questa storia si intreccia tutta la faccenda del depistaggio, quindi io volutamente non ho fatto il giallo di mafia, quindi per esempio non ci sono morti, non ci sono assassini, non ci sono inchieste all'interno della vita dei quattro protagonisti, ma arriva proprio sulla vita di questi quattro personaggi questa vicenda, questo stupro vero e proprio della verità che è stato fatto nei confronti di uno degli eccidi e dei processi più famosi della storia italiana. Ho voluto fare un romanzo diverso dal solito libro racconto antimafia, perché in realtà i quattro protagonisti sono persone normalissime, sono appunto un professore di lettere del liceo, sono una psicologa, una poliziotta e un ragazzino di 16, all'inizio del libro ha 16 anni e poi ne ha 18, quindi sono persone assolutamente normali che vivono la loro normalissima vita borghese e vengono travolti dalla conoscenza attraverso tutta una serie di vicende di questo giallo e quindi aprono gli occhi sugli alibi che come nazione ci siamo portati dietro, questi scheletri nell'armadio che ci siamo portati dietro idolatrando i personaggi di Falcone e di Borsellino ma anche altri personaggi, si potrebbe fare un discorso su Aldo Moro, su tanti altri eroi della Prima Repubblica e in realtà poi era tutto un blef, era tutto falso. Il mistero che ruota attorno al depistaggio Borsellino diventa per te in realtà il leitmotiv di un romanzo che a sua volta poi però indaga altri misteri. Siamo tutti bravi, soprattutto quando questo avviene gratis, ad accusare i grandi personaggi della storia italiana di essere ladri, disgraziati, servizi segreti deviati, tutte queste cose che conosciamo benissimo. Siamo molto più indulgenti però negli alibi della nostra generazione, degli attuali quarantenni che invece spesso vivono di autoinganni e ci sono queste famiglie che vivono di povertà assolutamente inconfessabili che poi magari vengono fuori attraverso delle piccole e grandi tragedie su cui i telegiornali fanno sciagallaggio e anche lì a un certo punto nel romanzo succede una tragedia che è quella che sveglia tutti e quattro i personaggi del romanzo. Quindi mi interessava moltissimo, come dicevi tu, far combaciare e mostrare le analogie tra i grandi alibi di quello che è sicuramente il più grave depistaggio della storia repubblicana perché ci sono di mezzo personaggi di tutte le categorie istituzionali, ahimè, poliziotti, magistrati, politici è una cosa veramente sconcertante di cui forse le televisioni non hanno parlato abbastanza e mettere a confronto questo grande e grandissimo alibi collettivo con i piccoli alibi quotidiani che ciascuno di noi si porta dietro, è come se il processo Borsellino, i quattro processi Borsellino fossero l'allegoria di tanti piccoli alibi che ciascuno di noi tira fuori nella vita privata e sono alibi inconfessabili, sono delle vergogne, degli scaletti dell'armadio che non vogliamo tirare fuori e forse questo è un romanzo generazionale, sicuramente. Grazie a tutti.